Fratelli e sorelle tutti ben ritrovati, ci prepariamo alla quinta domenica di quaresima. Mediteremo il capitolo 12 di Giovanni dai versetti 20-33. Siamo giunti dunque all'ultima tappa del nostro cammino prima di introdurci nella settimana santa attraverso quel solenne portale che è la domenica della passione, detta delle palme, che celebreremo appunto domenica prossima. In questa domenica ci viene presentata la quinta alleanza tra Dio e il suo popolo, la prima alleanza con Noè, con la salvezza del diluvio, la seconda con Abramo, la terza alleanza con Mosè, la quarta alleanza attraverso il Re Ciro domenica scorsa. Ma questa volta potremmo dire che Dio supera se stesso. Concluderò un'alleanza nuova, scrive il profeta Geremia nella prima lettura. Non un'alleanza come quella che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano, per farli uscire dall'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, ma porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Dunque non ci saranno più le dieci parole, i comandamenti, ma la legge è scritta nel cuore. Non faremo più le cose perché sono comandate dall'esterno, ci ricorderà Gesù, ma perché saranno una risposta alle esigenze del cuore. Faremo le cose perché è il cuore che ce le comanda, è il cuore che ce le esprime e nel cuore, il cuore ha un fuoco che chiede di essere sprigionato. Ed è questa forza di attrazione che ci porterà allora a vivere anche i comandamenti, ma dettati non da un comando esterno, ma dalla logica dell'amore, imparando a riconoscere che la legge di Dio è una legge che nasce nell'amore e chiede una risposta d'amore. Certamente il cammino non è semplice, anzi è impegnativo. Lo sentiremo proprio nel testo del Vangelo, dopo che domenica scorsa ci siamo soffermati e abbiamo gustato la gioia della festa, la festa di un Dio che ci ama, un Dio che è venuto per tutti, che muore per tutti, un Dio verso il quale tutti dunque possiamo andare. Il testo di Giovanni di questa domenica così inizia. Tra quelli saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bezzaida di Galilea, e domandarono «Signore, vogliamo vedere Gesù?». È interessante notare che i greci non vanno verso il Tempio di Gerusalemme, ma cercano Gesù. Si sentono da Lui attratti, seppur pagani. C'è una legge scritta nel cuore che ti porta naturalmente al Signore Gesù. I pagani, i greci, stanno cercando un'esperienza di verità, di vita. Vanno da Filippo e quindi chiedono di vedere Gesù. Non è un vedere dettato dalla curiosità, dal voler guardare fuori dalla finestra per vedere quello che fanno i vicini. Non è questo il vedere che viene indicato come verbo dall'Evangelista Giovanni, ma è un vedere che assume il significato di credere in. I greci desiderano credere in Gesù, lo vogliono toccare, fare esperienza con Lui e di Lui. È una questione di andare al di là dell'apparenza di quello che Gesù vuole mostrare, ma di andare dritto al mistero che Lui custodisce nel suo cuore. Questo lo comprendiamo bene nella risposta di Gesù. Filippo andrò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. E di fronte a questa comunicazione Gesù risponde, è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. Sembrerebbe quasi che la risposta non centri nulla con la richiesta dei greci, i quali chiedevano semplicemente di vederlo. Allora che perché Gesù risponde, è giunta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato? Perché il mostrarsi di Gesù non è composto da un miracolo, da una guarigione, ma il suo vero mostrarsi è il dare la vita per tutti. Questa è la gloria per la quale Gesù è venuto nel mondo, dare la gloria al padre morendo per l'umanità. E di questa gloria che i greci come ogni uomo e ogni donna coltivano nostalgia. Perché come dirà Gesù subito dopo, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Il chicco di grano dunque, finché non marcisce sotto terra, non può portare alla pianta. E così Gesù, per essere visto, come chiedono i greci, deve morire come il chicco di grano. Solo così potrà diventare sorgente di vita per molti e potrà dare quella pienezza di vita desiderata e cercata anche dai greci, dai lontani. E Gesù continua, chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Allora vedete che la vita passa per la croce, fa capire Gesù. L'attaccamento a se stessi, ai propri risultati, ai propri obiettivi, sono un ostacolo. Non esiste altra via per sperimentare la gioia che la fecondità dell'amore. La via del darsi, del donarsi, del perdersi per ritrovarsi. Non siamo venuti per farci servire, ma per servire. Se uno mi vuole servire, mi segua. Se uno serve me, il padre lo onorerà. Ha dimostrazione che seguire il Signore Gesù non basta a parole, non basta come principio, ma chiede una radicalità, chiede aderire al suo progetto, alla sua missione. È facile? No, non è facile seguire il Signore, ma di questo non dobbiamo avere paura. Ce lo dice Gesù stesso. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre salvami? Ma è proprio per questo che sono giunto a quest'ora. E allora padre glorifica il tuo nome. La mia anima è turbata, trema la mia anima. Ma non posso rinunciare, dice Gesù, a dare gloria al padre esaudendo il progetto per il quale lui mi ha mandato nel mondo. padre glorifica il tuo nome. È come quando morirai in croce. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Come a dire ho paura, sto tremando di paura, ma accetto la croce perché accetto il tuo amore, la grandezza del tuo amore, o padre. E allora vedete, Gesù non ha affrontato la croce e la morte a cuor leggero. Gli tremavano i polsi, tutto trema per la paura. Ma Gesù si è fidato del padre e in lui si è abbandonato. E Gesù sarà confermato da una voce dal cielo. E quando Gesù sarà innalzato da terra, dicevamo domenica scorsa, attirerà tutti a sé. Ecco allora che nella vita terrena, ricorderà San Paolo nella seconda lettura, offriremo preghiere suppliche per portare a termine il sacrificio ultimo di Gesù. Allora vedete che se domenica scorsa ci siamo fermati e abbiamo gustato la gioia della festa, la gioia del Vangelo, la gioia dell'annuncio che il Signore è venuto per tutti, tutti, nessuno escluso, nessuno si deve sentire escluso, scartato dall'amore di Dio, nessuno. Oggi ci viene ricordato che se è vero che è bello stare con il Signore è altrettanto vero che non è facile. Incontreremo anche noi difficoltà, contrarietà, ostacoli, persecuzioni, anche noi tremeremo di paura. Non dobbiamo avere paura delle nostre paure. Spetta a noi confidarle a Dio. Come ha fatto Gesù? Signore, sto tremando di paura, ho paura di quello che mi sta di fronte, ma nelle Tue mani consegno il mio spirito, assolvo il mio compito per darti gloria, perché è proprio nella testimonianza che io renderò gloria a Dio e edificherò coloro che mi stanno attorno, perché gli altri vedendomi saldo, pur soffrendo, pur faticando, ma vedendomi saldo, comprenderanno che io mi fido di qualcuno più grande di me, mi affido a qualcuno più grande di me. E allora vogliamo lasciarci proiettare verso la Pasqua, sempre più vicina. Impariamo a lasciarci sintonizzare nel condividere lo stato d'animo di Gesù, non come spettatori estranei, ma come protagonisti insieme con il Signore. Solo in questo modo varcheremo la porta della Domenica delle Palme per entrare nella Settimana Santa e condividere con Gesù i Suoi ultimi momenti. Allora a noi restare cuore a cuore con Gesù, sapendo che spesso il cuore ha ragioni che la ragione non comprende, il cuore ha una passione dentro che il mondo non comprende. Ascoltiamolo questo cuore, restiamo in sintonia con il cuore e lasciamoci accompagnare. Non ricordiamo le cose passate, ma restiamo protesi verso il futuro, a quello che ci attende. Restiamo e lasciamoci custodire dall'amore di Dio. Non è mai una vita persa, una vita che si dona a Dio. E allora la croce che noi spesso guardiamo con diffidenza impariamo a riconoscerla come il segno più grande dell'amore di Dio per noi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Di fronte a questa parola impegnativa, radicale, ma pure positiva, che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che riassume il messaggio dei testi biblici. Ascolta, o padre, il grido del tuo figlio, che per stabilire la nuova ed eterna alleanza si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Vedete? Fa che nelle prove della vita noi ora partecipiamo intimamente alla sua passione redentrice per avere la fecondità del seme che muore ed essere accolti come tua messe nel regno dei cieli. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana verso la domenica della passione, la domenica dell'amore. Ti amo da morire, ci dice Gesù. Questo è l'atteggiamento positivo con il quale avvicinarci. Signore Gesù, dolce volto dell'amore del Padre, il mio cuore ti cerca, non nascondermi il tuo volto. Se non ti mostri, Signore, io mi perdo. Aiutami a cercarti, Signore, e alla mia ricerca mostrati affinché impari a volgere lo sguardo a te, innalzato da terra per me. Signore Gesù, dolce volto dell'amore del Padre, attirami a te, vinci il mio tremare, fa che io stia con te. Amen.